Nel Pesarese diminuiscono gli infortuni sul lavoro e i casi mortali, ma aumentano le malattie professionali. Un tema importante è quello della sicurezza sul lavoro affrontato Domenica Mondolfo, in cui si è svolta la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Promotore dell'evento, l'ANMIL, associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro impegnata sui versanti della tutela, formazione e assistenza dei lavoratori dal 1943. Dopo la Santa Messa, il corteo si è spostato al monumento dedicato alle vittime del lavoro per la deposizione di una corona d'alloro, poi la cerimonia nel Chiostro di Sant'Agostino, durante la quale sono stati consegnati brevetti e distintivi d'onore ai nuovi grandi invalidi e invalidi minori, a cura dell'INAIL di Pesaro Urbino. Presenti all'evento le autorità civili, militari, i vertici ANMIL della provincia e le personalità politiche, tra cui il sindaco di Mondolfo Barbieri e l'assessore regionale Aguzzi. Ringraziamo davvero l'ANMIL territoriale di Pesaro Urbino per aver scelto la sede di Mondolfo per questa importante manifestazione che è anche un momento di riflessione e di confronto per tutta la nostra comunità. Il territorio di Mondolfo e Marotta è un territorio fortemente evocato al mondo del lavoro, quindi ci fa piacere ospitare questa giornata nazionale che è un modo anche per dire quanto ci sia bisogno di un grande lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni, sindacati. È una giornata molto significativa perché tra le tante cose che possono succedere nella vita, quando succedono situazioni per poter lavorare, forse sono le più toccanti perché il lavoro è quello che dà dignità alle persone, rimanere diciamo toccati proprio a causa del lavoro è un qualcosa che deve essere assolutamente evitato nel maggior numero di possibilità. È un dovere del datore di lavoro dare tutte le garanzie ed è però anche una raccomandazione che io rivolgo a tutte le persone di essere attenti sui luoghi di lavoro. Una tematica che deve essere ancora di più al centro delle agende istituzionali. Per iniziare bastano piccoli interventi, dobbiamo lavorarci tutti insieme. A breve il commissario Inail ha annunciato la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per consentire di dare assistenza psicologica alle vittime del lavoro e dei familiari, ha dichiarato il presidente Mazzacchera. Sono diminuiti i casi di infortuni sul lavoro, però sono aumentati i casi di malattie professionali nella nostra provincia di Pesorubino. Cosa bisogna fare in questo caso? Come vi tutelerete? Continuare intanto a fare la prevenzione e secondo me poi partendo dalle scuole, dove i ragazzi, dalle scuole, dalle medie alle superiori, devono già iniziare a capire cos'è la prevenzione e sicurezza sul lavoro. A livello invece di formazione di ditte? Facciamo prevenzione sulle ditte e lì non bisogna mai abbassare la guardia, anche perché ogni infortunio è una sconfitta per tutti noi. Un evento organizzato grazie al sostegno della BCC, da sempre attenta alle attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio. È un tema molto importante, prima di tutto la banca deve essere a fianco di tutte quelle associazioni che promuovono a livello di sicurezza anche la sensibilizzazione, quindi formazione, prevenzione. Sicurezza sul lavoro chiaramente sono un rischio che non si può annullare, ma dobbiamo tutti insieme contribuire attraverso anche degli investimenti specifici a limitarlo. quindi oltre che alla formazione la banca può essere a fianco delle imprese anche con linee di credito agevolate. Abbiamo installato 18 defibrillatori di ultima generazione all'esterno della nostra banca, quindi siamo partiti con un progetto di sicurezza sul lavoro per i nostri dipendenti, ma poi abbiamo ritenuto opportuno installarli all'esterno a disposizione di tutta la comunità.